Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Ricominciamo la settimana parlando di una quota, quota 40, quella raggiunta dalla Fiorentina alla fine del campionato in una stagione diciamo così tiepida come quella in cui ci aggiorniamo a inoltrarci con l'estate anche se in queste ore piove in maniera piuttosto forte su Firenze e forse è un clima non proprio caldo anche quello che sta nella società della Fiorentina soprattutto rispetto al futuro di una squadra che deve evidentemente ripartire anche dal nuovo allenatore. Ne parleremo oggi con due graditissimi ospiti, intanto accanto a me Fabio Ferri, tu è tornato in studio. Ciao Fabio, buonasera a tutti voi. Buonasera Stefano Cecchi, grazie Stefano di essere venuto. Buonasera a tutti voi. Allora come dicevamo insomma una stagione alta allenata io farei così, partirei un po' dalla fotografia di quelle che sono state queste partite nel corso della stagione per poi cercare invece di portare il ragionamento sul futuro. Stefano ce la fai? Il titolo è una sorta di manifesto della stagione, abbiamo passato mesi a discutere di quota 100, adesso scopriamo che la quota che fa discutere è la quota 40, la quota più bassa della Fiorentina che torna in sera dal fallimento. Questo racconta di un campionato rugginoso, di un campionato asmatico che non può vederci certi soddisfatti e intorno al quale credo che oggi l'unica cosa da fare sia facciamo punti a capo e ripartiamo diversamente. Perché quota 40 ci indica il fallimento di una stagione che è talmente evidente, se vogliamo parlare possiamo anche discutere, ma è talmente evidente il fallimento che credo davvero che una cosa da fare sia punti a capo, archiviamolo e ripartiamo da zero. Tra l'altro visto che giustamente lo citavo e quanto si è detto per quello che soprattutto è stata la stagione rispetto anche alla gestione della nuova società, perché poi c'è tantissima aspettativa, ne parleremo proprio stamattina un comunicato ufficiale da parte della Fiorentina che dice che desidera ringraziare Giuseppe Iachini, Cesare Prandelli, i rispettivi staff, tutti i calciatori della Rosa che rimarranno e quelli che seguiranno altre strade. I 40 punti ottenuti rappresentano sicuramente un risultato lontano dalle aspettative, tutti avevamo pronosticato, anche se per chiarezza e verità il tredicesimo posto non rappresenta o meroneamente riportato da alcuni medi il peggior risultato nella storia della Fiorentina e ricordano anche il 2004-2005 al sedicesimo posto 2018-2019. E questo giusto perché è una sottolineatura. È un sofismo, io credo che di fronte ai dati, chiedo a voi tifosi, quest'anno quante volte abbiamo risultato, la nostra gioia quante volte si è manifestata? Il 3-0 la Juventus, poi andiamo avanti per data che io ne scordo, quindi non è il punto in più o il punto in meno che segnala un fallimento di una squadra che non ha mai regalato gioia e che credo davvero sia una stagione da apprendere, mettiamo in archivio e davvero chiudiamo il cassetto, buttiamo via la chiave e ripartiamo speranze diverse. Infatti lo voglio archiviare velocemente perché voglio provare a immaginare invece il futuro. Fabio, però volevo chiederti una cosa. Quanto ha inciso secondo te, anche sul clima, perché poi come dire ci sono trasmissioni, voi ne fate spesso parte, insomma che parleranno di sport di Fiorentina e ne parlano in maniera molto più approfondita. A me piace anche rivolgermi un pochino su quello che è l'aspetto della società, di Firenze, della piazza, di come la vive, come la città ha vissuto questo anno, che è stato un anno sicuramente anche molto complicato dalla pandemia e volevo capire quanto secondo voi ha inciso anche sull'apprezzamento rispetto alla squadra, sulla passione, sull'attenzione c'è stata rispetto alle Fiorentine. Ma da un certo punto di vista forse il fatto che non ci fosse il pubblico allo stadio in certe occasioni ha anche tolto qualche situazione difficile da gestire, anche a livello emotivo a un gruppo che mi sembra abbia avuto difficoltà a gestire i momenti della stagione. Figuriamoci con il pubblico quanto sarebbe potuto essere più difficile. Allo stesso tempo però c'è anche il risvolto della medaglia, sicuramente la Fiorentina, storicamente la Fiorentina e Firenze, sono una realtà che sul pubblico, sul dodicesimo uomo in campo, fanno tanto affidamento. Quindi non lo so se è maggiore il beneficio oppure il danno, però sicuramente hanno cambiato. Quello che è chiaro è che questo periodo ha cambiato la nostra percezione del calcio. Ci siamo abituati Stefano anche a vedere queste partite con questi spalti vuoti e con queste grafiche che ci mettevano per confondere l'occhio, per ingannarci. Se uno guarda la classifica oggi non c'è niente che farebbe trasparire la presenza del Covid, Stefano. Insomma c'è qualcosa di strano in questa classifica, se no al di là della Fiorentina. A me pare che il Covid da un punto di vista tecnico abbia inciso le prime partite della ripartenza. Vi guardate lo scorso anno, quando pronti e attenti via ripartimmo, sono stati chiusi ed avremmo risultati notevoli, clamorosi, perché credo di giocare senza pubblico sia altra cosa che giocare col pubblico. Poi come sempre accade, ci si fa l'abitudine, quest'anno il campionato non ha creato grossi strappi per il pubblico. Sarà interessante vedere il contrario. Come ci fu un cambiamento pubblico, non pubblico, io sono molto curioso di vedere cosa succederà quando finalmente il pubblico tornerà, perché spesso alcune squadre si sono nutrite della passione. Ora c'è la vecchia frase retorica del dodicesimo uomo, però quella roba là se c'è è perché qualcosa nel tempo ha significato. E Firenze in questo dal pubblico è spesso stata più aiutata che non ostacolata. Infatti questo è un tema, tra l'altro visto che passiamo dal pubblico lo usiamo come linea conduttrice per immaginare un po' il futuro, cioè il tema dell'allenatore, ovviamente voglio entrarci a parlarne. Passando però da una questione che ha a che fare con le aspettative, perché abbiamo detto chiuso una stagione accantonata, insomma anche con poi la puntualizzazione della Fiorentina di questa mattina, al di là di questo ora l'aspettativa è anche molto alta, anche perché diciamolo senza remore, come dire, il Presidente ha alzato l'asticella, anche nel contrasto che ci sono nella sala stampa, insomma quello che c'è stato nei giornalisti, quello che è stato anche il voler rivendicare, come dire, un ruolo, gli investimenti fatti, evidentemente il resto dei tifosi aspettano molto anche per la prossima stagione. È giusto, è legittimo che si aspettino tanto Stefano e poi Fabio. Vede, dipende da che cos'è la Fiorentina per noi. Io rimango per l'idea che sia una bella componente della comunità di Firenze. La Fiorentina non è il passatempo snob, è qualcosa che si vive profondamente, che segna anche l'umore di una città intera. La Fiorentina ne parlano tutti, ne parla mia madre che vede pochissimo calcio, ma ogni lunedì mi chiede chi ha fatto la Fiorentina. È qualcosa che va oltre il costume. E io continuo a pensare, magari non lo penseranno mai i Presidenti di calcio, la Fiorentina non è dei Presidenti. La Fiorentina appartiene alle città, è gestita temporaneamente dai Presidenti e quindi il risultato sportivo poi comunque è qualcosa che segna marchi alla città. I grandi successi dell'Atlanta segnano Bergamo. E quando la Fiorentina era una macchina a schiacciassassi, era la città intera che saliva. Quindi io credo ci sia bisogno di Fiorentina. Lo dicono all'accezione più larga del termine, non soltanto in termini di passione mia, che è notevole, ma anche per far sere di libera una città intera che non può stare relegata in quelle retrovie che se non è il XII, il X, il XVI non cambia niente. Firenze ha bisogno di Fiorentina e io spero che il prossimo anno la ritrovi. E qui mi viene spontanea Fabio, anche una domanda. Ha dato il segno un po' di una chiusura la Fiorentina di commesso, soprattutto sulla difensiva un pochino negli ultimi tempi. Questo non al di là delle polemiche che ci sono state, anche rispetto a queste puntualizzazioni. Non sembra un po' una Fiorentina che teme un po' anche il confronto con una città che sicuramente a Firenze tiene sulla graticola, sia gli allenatori, i giocatori. Insomma è una piazza che pretende tanto, però come diceva Stefano, poi rende tanto quando poi si tratta di scendere in campo. Ma a me è anche solo il fatto che si vada a sottolineare che la Fiorentina aveva fatto di più nel 2004-2005 e nel 2018-19, scusami, che aveva fatto di meno nel 2004-2005. Sì, il sedicesimo. Fra l'altro non è neanche vero perché aveva fatto più punti. Sia una sia l'altra Fiorentina avevano fatto due punti, una un punto in più. Ma mi sembra veramente di una pochezza. Andare a sottolineare questo dimostra che comunque un po' il nervo scoperto c'è. E il fatto che il Presidente poi si sia soffermato su quella storia dei piazzamenti, io l'ho detto anche in un'altra mettente televisiva. Cioè, ma a un tifoso di calcio di Serie A, nemmeno a un tifoso della Fiorentina, ma arrivare undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, non gli cambia niente. Non gli fa assolutamente nessuna differenza. Se non si fa in Champions, se non si fa in Coppa UEFA, scusatemi, Europa League, non hai neanche quel brivido della lotta per noi lo tricedere, anche se quest'anno la Fiorentina ce l'ha avuto. Però voglio dire, ma che stagione è? Una stagione anonima. E capisco che possa dar fastidio sentirselo dire, soprattutto perché comunque in due anni, secondo me, non è facile nemmeno poi costruire una società solida, una squadra che funziona. Quindi c'è tutte le attenuanti del caso, c'è una pandemia globale che ha sconvolto economicamente il Paese e il mondo del calcio, però un po' di nervo scoperto, secondo me, è evidente. C'è poi la conferenza di un'ora e 48 per dire che la colpa... Va bene, no, no, non voglio riavare la parte giornalista. Voglio cercare anzi di andare oltre, invece. Oggi sono due i nomi, arrivo al tema dell'allenatore, perché l'aspettativa passa inevitabilmente e soprattutto la costruzione della squadra passa dalla riconferma di alcuni giocatori, fondamentale, e evidentemente però dall'allenatore. Stefano, facci un pochino te il quadro delle ultime ore e insomma di quello che potrebbe succedere in una settimana e sembra essere quella decisiva. È sempre difficile fare previsioni perché in questo mondo davvero di ora in ora cambia la prospettiva. Io non so se arriverà Fonseca, se arriverà Gattuso, se arriveranno i nomi in questo momento che stanno girando. Quello che vorrei accadesse ha due componenti fondamentali. La prima, un allenatore che sia un marchio, cioè il segnale che la Fiorentina vuol ripartire, vuol scommettere alto e quindi creare quell'ubus per cui non arriva solo l'allenatore, ma arriva anche il giocatore, perché poi alla fine, io sono della vecchia teoria, va bene l'allenatore, datemi i giocatori bravi, poi l'allenatore sceglietelo voi. Cioè, tanto per capirsi... L'allenatore diventa bravo. Ma datemi the pole, poi vediamo chi allenare. Però, in questo momento, Fiorentina ha perso una scommessa quest'anno, mi arriva Gattuso, è comunque la prova che voglio guardare in alto. Seconda cosa, mi piacerebbe un allenatore condiviso. Nel senso, vi spiego meglio. Le scelte fatte ultimamente sull'allenatore, le abbiamo sempre raccontate, nascevano da una parte, commisso, contro la volontà dei dirigenti. La conferma di Iachini e questa noia qua, il licenziamento, eccetera, eccetera. Ecco, a me piacerebbe che lo scegliessero insieme e insieme lo difendessero. Perché la grande forza di una squadra la fa questa unità, questo blocco monolitico che nel caso sa anche difendere l'allenatore. Il licenziamento di Iachini, convinsolo ha debitato a noi giornalisti. Sì, esatto, sì. Io ho come l'impressione che i primi a non essere convinti di Iachini fossero gli stessi dirigenti, che subirono quella scelta, non la votarono, perché a questo no, ma sono cose essenti nell'ambiente. Ecco, a me piacerebbe un allenatore condiviso da tutti, intorno al quale si fa gruppo e se riparte per un qualcosa che sia diverso da quello visto quest'anno. Tra l'altro, come dire, visto che giustamente dicevate, che poi alla fine in campo scendono i giocatori e gli allenatori, ci sono alcune riconferme, Fabio, che sono poi quelle che forse accendono anche di più i tifosi, perché se Vlaovic, insomma, per quello che è stata la sua stagione, resta a Firenze e ci resta, come dire, al centro di un progetto, di un nuovo allenatore, evidentemente, si parte già con il piede giusto. Si parte col piede giusto se ovviamente Vlaovic dovesse appunto far parte della Fiorentina della prossima stagione, perché questo giocatore ha dimostrato di essere obiettivamente qualcosa di speciale. Insomma, non tutti gli anni nasce un giocatore del tipo di Vlaovic, che fa 21 gol alla prima stagione in Serie A da titolare. Io sono anche piuttosto ottimista, sinceramente, penso che alla fine un modo per mettere d'accordo le parti si troverà. Poi va ricordato anche che il contatto di Vlaovic, noi siamo sempre molto apprensivi con le vicende contratti, ma non scade quest'estate, quindi Vlaovic è obbligato a rimanere a Firenze, salvo che appunto la Fiorentina non lo voglia vendere prima. È chiaro che poi per distendere i rapporti sarebbe propedeutico trovare un accordo di rinnovo a delle cifre che ovviamente facciano contatto con Vlaovic. E poi ci vuole anche una squadra che non voglio dire, perché Vlaovic alla fine è un ragazzo di 21 anni, quindi non penso possa nemmeno andare da una società a battere alla porta e dire oh, io sono Vlaovic e voglio che intorno a me ci sia una squadra forte. Perché insomma, comunque non è, io penso, non sia nella posizione di farlo. Però allo stesso tempo magari sotto sotto un po' ci spera. Più che altro viviamo in un'epoca secondo me in un calcio in cui insomma una dote di un'annata come quella che ha fatto Vlaovic basta per allontanarsi da Firenze o per sognare in grande soprattutto se appunto Firenze non offre poi un allenatore, una squadra, una squadra che appunto non gli dà la possibilità di competere e magari di arrivare anche a posizioni alte in classifica. Io sono dell'idea però che Vlaovic non possa lasciare Firenze quest'anno per mille motivi. il primo è proprio simbolico perché i giocatori hanno un prezzo e Vlaovic ha un prezzo alto ma hanno anche un valore e il valore di Vlaovic è quello di dire, di certificare che la Fiorentina ha ambizioni alte che non è il supermercato nel quale si va a fare la spesa e un giorno si pesca Chiesa e poi si pesca Milenkovic e poi si pesca Vlaovic anche no, anche no. Se c'è ambizione, se c'è orgoglio, se c'è voglia di sfida la sfida è che Vlaovic deve comunque essere il centroavanti di questa squadra che vuol provare a cambiare il corso delle cose ad avere ambizioni più alte. Guardate che Vlaovic dal punto di vista valoriale se lo perdi è una grossa mazzata. Molti dicono ma se arrivassero De Paul e Belotti tecnicamente magari puoi anche dire ne vale la pena ma è il simbolo che perdi. E' questa idea alta della Fiorentina che vuol tornare ad essere se stessa e quindi non da fare l'asserbatoio le grandi squadre ma gettarsela nella sfida per essere lei stessa grande squadra. Senza considerare poi come dire è una banalità ma una squadra non è mai la somma dei singoli ma insomma è un'amalgama come dire un pochino più più profonda. Stanno si è visto molto bene perché tutti si diceva i singoli non erano male e poi alla fine però singolo 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 poi alla fine facevi la somma una squadra scombiccherata questo sì e io rimango all'idea che forse è migliore di quello che è stata proprio per questa incapacità di trovare una sintesi. Ma c'è anche qualche come dire qualcuno secondo voi nello spogliatoio o nella squadra appunto che sposta un po' l'asticella da quello che dovrebbe essere un team comunque anche giovane con una nuova una nuova dirigenza quindi evidentemente che ha ambizione anche a lungo termine o questo almeno dovrebbe essere insomma mi viene in mente Ribéry che sicuramente è una personalità che insomma non è automatica da gestire insieme a magari giocatori invece più giovani e più inesperti Fabio. No assolutamente ora Ribéry insomma penso sia arrivato a Firenze anche con una maturità di tra virgolette insomma autogestirsi ecco per non dare tra virgolette problemi all'allenatore della Fiorentina fra l'altro insomma c'è stata questa bellissima storia legata alla malattia del padre di Venuti con Ribéry che si è fatto fratello maggiore nei confronti appunto di Venuti e gli ha chiesto di conoscere il padre malato io sul Ribéry guarda siamo entrati nell'argomento Ribéry dico anche una cosa forse è un po' forse è impopolare non lo so 4 milioni di euro a stagione e lo so non si deve fare commercialisti però un po' lo siamo diventati per un giocatore di 38 anni che ha fornito sì slanci di talento spunti da ammirare ma pochissime prestazioni poi a livello numerico cioè non ha dato continuità non è potuto essere un titolare in questi due anni di Fiorentina alla fine sono state un grande spot per la Fiorentina e non un grande risultato non hanno dato questo grande risultato al Cistio mi viene in mente Airo che credi ho commisso e commisso si arrabbiò tantissimo perché appunto aveva detto che il Ribery era un colpo mediatico ora il Ribery non è stato un colpo mediatico però diciamo non ha dato nemmeno tutto questo supporto che magari s'auspicava forse perché ci sono stati anche altri colpi invece davvero sono stati più mediatici forse perché è stato espulso poi è un sacco di volte insomma è stato infortunato Stefano su questo è un racconto suggestivo su Ribery potremmo stare tutta una trasmissione a capire se è un fallimento o se invece è stata una scelta azzeccata a me torno sempre lì sul ballo dei giocatori e simbolicamente Ribery è rappresentato mica poco un ex pallone d'oro un ex quasi pallone d'oro non si discute che arriva a Firenze a chiudere la carriera e l'abbiamo visto in questi piccoli frangenti di vita quanto poi Ribery sia uomo di alto livello perché la storia di Venuti ci racconta quello che può essere dentro una squadra un campione quanti stimoli può dare quindi io se Ribery dovesse restare l'accetterei volentieri a un patto però che tecnicamente sia pronto a essere gestito diversamente cioè Ribery restava per due anni l'uomo faceva la differenza a volte l'ha fatta più spesso non l'ha fatta per motivi contingenti grafici lo squalifica l'infortunio quindi se restasse dentro il gruppo io sarei felice ma mi piacerebbe restasse non dico da capitano non giocatore ma da uomo che una partita la gioca a due no che entra dal sesto uomo del basket dal sesto uomo del basket da grandissimo sesto uomo del basket dico dal grandissimo dodicesimo in questo caso che è una sorta di capitano quasi giocatore o comunque capitano giocatore a metà che fa da padre putativo a una squadra che vuole crescere ma io penso che la Fiorentina che vuole rinascere deve farlo su Vlaovic deve farlo su quei giocatori lì non sul giocatore di 38 anni che per forza di cose non può essere quello che ha incantato a Bayern anche perché Fabio questi poi sono gli ultimi colpi come dire delle giovanili che ci rimangono insomma in particolare viene in mente Vlaovic perché poi invece purtroppo sul settore giovanili non è che la Fiorentina come dire sul futuro potrà esprimere forse quanto ha espresso quest'anno è arrivata la Coppa Italia con la primavera che ha forse un po' coperto la stagione della primavera che non è stata così positiva tra l'altro poi c'è anche da capire quanto poi i giocatori della primavera sono pronti per giocare in prima squadra perché non sempre anzi spesso si è detto di quanto questo campionato sia poco formativo ai fini poi dell'esordio in Serie A ci dicono e insomma seguendo un po' l'andamento dello giovanili della Fiorentina che non ci sia un nuovo Bernardeschi non ci sia un nuovo Chiesa va anche detto insomma sono due giocatori della nazionale sono due giocatori di altissimo livello non è che tutti i giorni ne tiri fuori uno di questi insomma quindi quindi insomma quindi teniamoci bravi se è possibile teniamoci lo stretto allora voglio chiedervi l'ultimo paio di cose parto da Stefano ritorno un po' sulla città che poi insomma noi spesso in questo programma parliamo anche più di quello piuttosto di sport lo abbiamo detto lo fate voi in altri in contesti in maniera molto più approfondita la città Stefano quanto sarà pronta come dire al netto anche di investimenti vengono fatti il viola park ne abbiamo parlato insomma sono tutte realtà molto importanti che avranno il futuro in questa città e che porteranno prestigio a questa città e a questa squadra però poi c'è l'attesa c'è la volontà come dire anche di tornare forse a innamorarsi un po' di un gioco che effettivamente quest'anno vuoi per un motivo vuoi per un altro è stato un po' messo nel cassetto attira meno diciamo l'attenzione e la passione dei tifosi sì lo ricordavo prima che fantastico volano economico e di sentimento la Fiorentina per Firenze intera per Firenze non solo sportiva e quindi l'idea di una Fiorentina che riparte con l'idea di dare più soddisfazioni è un qualcosa che dovrebbe aiutare la città intera che in quanta felicità interna lorda in quest'anno non soltanto la Fiorentina che va male ma ha avuto una sorta di catastrofe quindi una ripartenza che parte anche dall'aspetto più leggero dell'economia fiorentina cioè dall'aspetto sportivo io credo sia davvero auspicabile non può essere la parca che sposta diciamo l'equilibrio della passione diciamo così vede noi tifosi mi ci mette anche io perché non voglio fare lezioni cioè se come ho detto una volta che ho messo siamo molto arrabbiati se avessi spesso un pochino meno cioè 10 milioni meno e avessi 10 punti in più in campionato probabilmente anzi senza probabilmente gli applausi sarebbero arrivati molto più scroscianti di quanto non arrivino e commisso che in questo è un uomo che sul marketing e sul business faccio 20 passi indietro non si capace perché il mondo del calcio non abbia un senso di riconoscenza in chi investe e il calcio è altro il calcio è la riconoscenza da dico con chi vince per banalizzare il concetto però nel sentimento nella passione su una cosa però sul commisso sono d'accordo e ora mi tiro un sacco di stagli addosso sul fatto della generosità dei fiorentini leggeva alcune frasi di Zubinmeta che non c'entra niente col calcio riguardo al maggio diceva fiorentini siate più generosi col maggio che è un qualcosa che come la fiorentina dà prestigio alla città ecco hai come l'idea che negli ultimi anni Firenze col calcio non sia particolarmente generosa è più pronta a criticare che non a dare una mano non è un caso se le ultime presidenze una arrivava da casette d'ete che non è propriamente toscana l'altra è ancora più lontana ecco a me piacerebbe che intorno alla fiorentina ci fosse davvero una sorta di la dico grossa rinascimento sportivo che porti anche ad una visione della città nei confronti di una squadra che è vero che è di commisso ma insisto a partire dalla città gli uffizi in questo momento sono dello Stato la città è il direttore ma gli uffizi sono di Firenze non si possono pensare altro e non a Firenze e questo vale anche la fiorentina e quindi maggiore sarebbe il coinvolgimento dei fiorentini e secondo me meglio sarebbe per la fiorentina stessa anche perché Fabio chiudo con te proprio in 30 secondi insomma a Firenze purtroppo se lo diciamo spesso per quanto riguarda lo sport è rimasta la fiorentina e diciamo su altri sport invece si fa un po' in più fatica però vale la pena spendere due parole proprio 30 secondi perché domenica invece torna un appuntamento importante per Firenze e per la Toscana allora sì infatti in chiusura velocissimo questo è il fine settimana del Autodromo del Mugello mi viene da dire perché arriva un evento internazionale a livello mondiale ovviamente stiamo parlando del Moto Mondiale con le sue tre categorie Moto3, Moto2 e MotoGP che ovviamente tornano a rappresentare il Gran Premio d'Italia ci ricordiamo l'anno scorso per effetto del Covid e poi anche per effetto della Formula 1 il Gran Premio di MotoGP non si è disputato nemmeno quello delle altre categorie però lasciami dire anche Alessio che Firenze ospiterà anche un altro grande evento di sport questo però in città allo stadio Ridolfi si tratta del Golden Gala Pietro Mennea che ospiterà grandi dell'atletica in uno stadio che comunque è in una zona ha fatto la storia dello sport fiorentino ci saranno tanti atleti tra la lista Iapichino Fabri quindi ci sarà anche il meglio del meglio della nostra città e è qualcosa che tra virgolette Firenze ruba a Roma quindi insomma è un orgoglio un frellino all'occhiello in una disciplina sicuramente meno seguita del calcio e dei motori come l'atletica ma sicuramente ci fa tanto piacere altrettanto prestigioso ci mancherebbe grazie mille a Fabio Ferra e a Stefano Cecchi grazie per essere stato con noi a tutti per averci seguito da casa noi ci fermiamo qui naturalmente con Telegram ci vediamo domani buona serata a tutti a Stefano Cecchi